ciao a tutti bentornati sul canale buon pomeriggio il video doveva uscire due ore prima scusatemi ma poi alla fine sempre a quest'ora escono i miei video allora ragazzi io inizierai con una definizione che vi do io senza andare ad aprire il vocabolario il devoto olivo che lo zingarelli ormai è obsoleto il devoto olivo era quello serio di vocabolario che non me ne vogliono allora ragazzi che cos'è l'accanimento secondo me l'accanimento è un è un sentimento ripetuto con un altissima frequenza perché iniziamo il video così perché di accanimento bisogna parlare perché io non ero a conoscenza fino a ieri si avevo sentito però non pensavo che ci fossero veramente delle coalizioni sui canali youtube contro l'inter youtube è uno specchio della della società quindi anche youtube ci serve a livello sociologico per capire qual è per tastare il polso e il pensiero di un target ampio di persone se mettiamo insieme tutti i canali in questo caso sportivi sentimento che si è visto anche e comportamenti di accanimento contro la nostra inter che si sono visti anche durante questo campionato e mi riferisco ai dirigenti di varie squadre che subito dopo le partite senza andare a vedere bene gli episodi andavano a scagliarsi con con termini forti e con vere e proprie scenate contro la nostra inter quindi mi viene in mente il dirigente del verona mi viene in mente il dirigente del napoli dopo napoli inter e tutta una serie di comportamenti che rovinano assolutamente il mondo del calcio sono totalmente incomprensibili perché poi dopo dopo comunque di esamine più tranquille con stati d'anime più tranquilli insomma abbiamo abbiamo chiarito che quegli episodi non erano come ce li raccontavano quindi non valeva la pena fare quelle scenate quindi la prima la prima cosa che mi piacerebbe vedere il mio auspicio prioritario sarebbe quello di smetterla di assistere a tutti questi teatrini dopo le partite anche perché la mia memoria non è corta ok ma qua non è questione di memoria perché per anni il campionato italiano ha dato innumerevoli episodi sempre a favore della solita squadra le strisce pedonali quindi nell'immaginario comune a tutti abbiamo sempre pensato e lo pensiamo ancora che la juve è sempre stata avvantaggiata però tutti questi teatrini non li abbiamo mai visti perché contro l'inter invece li vediamo perché facciamo meno paura tra virgolette cioè cosa significa questa frase tu le strisce pedonali non le puoi attaccare perché se sei il dirigente di una squadra poi comunque puoi essere penalizzato in varie situazioni dagli arbitri dai vari vari dirigenti che comunque non ti vanno ad acquistare il tuo calciatore piuttosto che dal giornalista che non ha più l'occhio di riguardo cioè mi vengono in mente tutte queste cose e quindi una mancanza di forza politica assolutamente penso che non sia questo il motivo però qualcosa c'è perché abbiamo assistito a un'annata dove andare ad accampare scuse che è comunque sintomo di essere perdenti dentro ormai fa parte del modo di pensare di tantissimi tifosi e non solo quelli delle grandi squadre perché affinché è il milanista che comunque hanno finito i malux gli abbiamo alzato la seconda stella in faccia a come viene da una serie di derby dove è stato asfaltato a più riprese io il milanista lo posso anche capire lo juventino lo posso capire però fino a un certo punto perché lì poi c'è un discorso che quando quando si sentono gli giuventini parlare di arbitragi di legalità e quant'altro a me viene solo da sorridere ve l'ho detto tantissime volte è un argomento che loro non hanno ma non lo dovrebbero avere per per una logica molto 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 basica che è quella che proprio loro si permettono di andare a parlare di certi argomenti dal momento che insomma la loro storia è lì da vedere ok sbeffeggiati e presi in giro in tutto il mondo addirittura cori in inghilterra siete come la juve in inglese parlo di vent'anni fa cioè è sotto gli occhi di tutto di tutti perché la juventus in italia vinceva in europa faceva ridere quindi sentire a certi video o certi pensieri loro mi fa solo che sorridere ma come mai i tifosi delle altre squadre cioè l'amico cavasena ha fatto un bellissimo video ieri dove dove parlava di di quel virgolettato apparso su x a memoria di quel giornalista penso vicino a napoli che definisce l'appeal del napoli superiore a quello dell'inter perché l'inter ha i debiti ve lo riassumo cioè come mai anche i tifosi del napoli sono accaniti contro di noi alessandro la spiega perché in napoli dal momento che la juve non vince il campionato si aspetta di essere di lei no cioè si aspetta di vedere la sua squadra primeggiare nel frattempo è volano volano i peli della mia bambina della mia lea o l'ho accarizzata vum ok può essere può essere può essere può essere un'analisi corretta quella quella di alessandro anzi sicuramente lo è però tutto questo accanimento non è solo un discorso di outsider secondo me perché perché riguarda proprio tutti ormai è proprio diventata una moda andare a lamentarsi dopo le partite contro di noi ecco io spero che quest'anno non sia invertita questa tendenza perché ci siamo veramente rotti le scatole poi all'inizio video vi parlavo di youtube ma io onestamente mai avrei potuto immaginare coalizioni così fedeli tra youtuber del minon e della juve io ieri vi ho menzionato il signor vessicchio perché penso che che ormai il limite è colmo come vi ho già spiegato ieri e era giusto prendere una posizione forte in merito ai continui video che questa persona fa perché non si parla più di libertà di espressione ma si parla di video di vere e proprie denunce su fatti mai accaduti e su supposizioni frutto di fantasie perché è lì da vedere ok però ieri sono venuto a conoscenza che c'è un milanista che io onestamente non conosco perché non è che che seguo youtube più di tanto per me lo youtuber non è che mi fa impazzire come modo di parlare della propria passione lo youtube classico che basa tutto sui dissing su copertini accattivanti su show c'è quell'intrattenimento e non parlano di calcio quindi a me personalmente li rispetto però non voglio che il mio canale sia impostato così cioè a me faccio parlare di inter e di calcio ok però non pensavo non pensavo addirittura fanno le live variation delle live di questi qua siamo a questi livelli la cosa triste che all'utenza queste cose qua piacciono quindi su youtube che è un po' lo specchio della società come dicevamo prima questo è quello che sta succedendo vi volevo parlare in questo video di accanimento perché è un accanimento che è totalmente privo di fondamenti e non si capisce non si capisce come mai dopo quello che è successo al milan con yongon league e tutto non si è andato a sollevare tutto il can canna che si sta sollevando adesso contro la nostra inter non si capisce la situazione diversa ma simile se si può utilizzare questo modo di parlare e esprimersi però non si capisce perché noi vinciamo loro non vincevano non lo so ditemelo voi qua sotto e adesso parliamo di attualità perché oggi ci sarà finalmente la prima amichevole dei nostri ragazzi non è proprio un amichevole lo chiamano allenamento congiunto di allenamento si tratterà anche perché comunque avremo di fronte l'under 21 del lugano il lugano non potrà presentare la prima squadra in quanto inizia brevissimo il campionato e hanno già i preliminari europei nel frattempo la mia è a starnutito contro il fenarbaccio di murigno quindi ci portano la squadra under 21 sarà una sgambata un'occasione per rivedere il nostro micchi un'occasione per rivedere il nostro bistecone il nostro bistec un'occasione per vedere per la prima volta in una parte seppur in una partitella il nostro taremi e quindi per per il restante della formazione che resterà che resterà in campo vediamo quanto li faranno fare un tempo e saranno tutte vecchie conoscenze io sono curioso di vedere si potremmo vedere solo il daylight perché non sarà trasmessa sono curioso di vedere vanoysden che verrà schierato al centro della difesa è un giocatore che l'underlake non ha riscattato quindi sarà fondamentale in queste amichevoli vedere se il ragazzo può stare all'interno del nostro roster se sta bene la risposta è assolutamente sì e sono sicuro che dovesse stare bene noi il rinforzo che ci fa stare tranquilli per le rotazioni centrali già l'abbiamo a casa poi ragazzi parliamo di cabal e voi mi direte ma ancora ancora si parliamo ancora di cabal perché ieri mi sono andato a vedere le statistiche del ragazzo il discorso di vedere le statistiche dei nuovi acquisti che non si conoscono benissimo io lo facevo quando lavoravo a radio milan inter e mi ricordo un caso che non riguardava un giocatore dell'inter ma un giocatore che acquisto al milan meno a serra io andai a vedere le statistiche e ai milanisti che chiamavano in trasmissione dicevo ragazzi io vi auguro da interista ogni male no ridendo però questo è un profilo interessante molto interessante perché ha delle statistiche che sono che sono molto ma molto importanti e qua vi dico la stessa cosa di cabal cabal è un prospetto veramente interessante con caratteristiche di un certo livello diciamo che i dati che hanno analizzato riguardano le azioni il tiro il teckel è un giocatore che usa molto il teckel che fisicamente ha una struttura molto importante ricorda tantissimo bastoni ha chiaramente tanti aspetti da migliorare ma per esempio sulle palle alte le prende tutte lui l'unica cosa che per quanto riguarda i dati che sono venuti fuori dove lui non primeggia perché perché in tutte queste situazioni di gioco lui primeggia dai duelli ai rivinti alle intercettazioni alle spazzate cioè veramente è sopramedia e le statistiche riguardano i cinque campionati europei più importanti ok dove deve migliorare nell'anticipo e nella gestione fisica dei 90 minuti soprattutto nella gestione mentale perché perché prende tanti gialli però un prospetto veramente ma veramente al di là di quello che io pensavo perché l'avevo visto nel verona però poi io quando guardo i dati le statistiche poi è il campo che deve parlare però ha dato in mano al nostro mister secondo me è un acquisto che sarà sicuramente azzeccato poi altra considerazione da fare come mai ha preferito caballa e ermoso ragazzi però ermoso sarebbe un titolare mentre noi abbiamo bisogno un ragazzo da fare crescere non mettiamo un altro titolare in una rosa di titolari per il semplice fatto che in quel reparto lì potrebbe anche creare manumori dovrebbe comunque integrarsi nello sfogliatoio e tutto quanto a prescindere dai costi perché si parla sempre di costo però ecco questo è il motivo principale che porterà a un acquisto che sembra essere veramente molto vicino da animare ormai c'è poco e niente poi parliamo anche del nostro carboni perché perché abbiamo già spiegato più volte la situazione il marsiglia ha comprato o comunque è questione di ore greenwood e ha speso 30 milioni quindi a questo punto è improbabile che abbia altri 30 milioni a budget per andare a comprare un giocatore nello stesso ruolo il giocatore quindi carboni non vuole il prestito quindi le probabilità che lui possa rimanere a meno che arrivino offerte di un certo tipo ci sono e aumentano giorno dopo giorno io sono curiosissimo di vederlo anche perché il sentore che ho io per l'affare Gudmundson è particolare nel senso che si parla di stallo la criticità è sempre quella del processo oggi addirittura sono venute fuori notizie che parlano di inserimenti di altre squadre soprattutto a Juventus il giocatore ha dato la preferenza chiaramente all'Inter dovesse arrivare a Juventus con una proposta poi se qualcuno mi può spiegare come si fa a rendere reali i soldi del Monopoli mi piacerebbe tanto perché magari lo userei anch'io no perché la Juventus con quali soldi ma su tutti i giocatori ma dove ma dove lasciamoli scrivere i giornali lasciamoli scrivere perché perché il mister poi dicevo tornando tornando appunto a Carboni ha fatto ha fatto comunque capire in conferenza stampa che quest'anno la mezza punta lui la utilizzerà e cercherà delle soluzioni nuove soluzioni nuove rispetto alle prove che ho già fatto l'anno scorso quindi abbiamo un nuovo acquisto il ragazzo di cui tutti parlano appena acquistato e vedremo anche lui nell'amichevole di oggi e poi abbiamo Carboni quindi a quel punto lì io onestamente all'inizio potrei anche partire così guardate cosa vi dico magari andrei a prendere andrei a prendere comunque il il quinto a destra per fare rifiutare Dumfries perché comunque noi quattro punte le abbiamo con Carboni che mi fa la quinta secondo me siamo coperti chiaro che mi piacerebbe Goodmanson ma non griderei allo scandalo rispetto all'anno scorso comunque già così a oggi il nostro attacco è molto più forte e offre molte più soluzioni di quello dell'anno scorso per quanto riguarda il quinto di destra ecco io lì interverrei lì interverrei perché ci vuole assolutamente un rinforzo a livello di rotazione perché perché Dumfries e oh signore Darmian non mi lasciano del tutto tranquillo perché perché Darmian io strevedo per lui però ormai è un braccetto di destra e fare il tutta fascia onestamente si lo può fare ma ormai l'età è quella che è quindi io andrei a rinforzare la Rosalie ragazzi per oggi è tutto io spero di parlarvi sempre di più di calcio e sempre meno di argomenti tipo ieri però quando la misura è colma è giusto fare sentire la propria voce perché i social servono anche a questo l'importante è usare educazione e parlare di fatti non di favole ciao ragazzi di Milano è simbolo regale il biscione dell'internazionale per quanto riguarda l'amichevole di oggi la commentiamo domani mattina ciao a tutti ragazzi forza inter